Ben tornati a tutti. Oggi è mercoledì, 29 novembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, cosa volere di più? Avere la Luna insieme a Marte, Sole e Mercurio in aspetto valido rappresenta un grande vantaggio. Ora avrete campo libero per portare avanti in serenità i propri progetti di lavoro. Ci sarà modo di togliersi delle belle soddisfazioni anche dal punto di vista economico. Coraggio. Al lavoro. Vi organizzate il tempo libero con la vostra classica rapidità e la sveltezza d'esecuzione. E la giornata di fine novembre abbastanza promettente per tutte le vostre iniziative. Vi potreste lasciar tentare dal bricolage, dalla gastronomia, dal giardinaggio, in ogni hobby oggi troverete una bella soddisfazione personale. Movimenti piacevoli sul fronte del cuore, grazie alla mediazione della luna frizzante in gemelli, l'opposizione di Venere trova uno sbocco piacevole, attrazione senza conflitto, un discorso rassicurante vince l'eventuale timore di lanciarsi verso una nuova avventura. In corso a una trattativa tenete occhi aperti, la quadratura in gioco tra Nettuno e la bianca signora mette in circolo qualche fandonia di troppo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 9, finanze, 10, benessere, 9. Toro. Cari toro, a maggio 2024 avrete giove nel segno, solo allora molte questioni ancora in sospeso troveranno una soluzione definitiva. Fino ad allora sarete costretti ad arrancare un po' per ritrovare un po' di stabilità. Questa settimana sarà fondamentale per recuperare una certa ducidità e una certa serenità interiore. Previsione dei transiti gratificata da giove in splendido aspetto per il vostro segno a infondervi una bella serenità interiore che mettete a frutto nella gestione di situazioni complicate presenti all'interno del vostro gruppo di parenti. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 9, finanze, 10, benessere, 9. Gemelli. Cari gemelli, se la scorsa settimana è stata caratterizzata da parecchie tensioni, anche quella in corso è iniziata all'insegna delle grandi perplessità. Non è facile capire da che parte volete andare in questo momento. Siete come una barca in baglia delle onde che ha smarrito la bussola. Saturno contro rappresenta un invito al cambiamento. Una luna molto gioiosa vi illumina la giornata, trovandosi proprio in congiunzione nel vostro segno. Tuttavia Saturno è nel segno dei pesci, vostro nemico, amatissimo sulla ruota dello zodiaco e questo transito può instillare qualche piccolo malumore o leggera inquietudine in voi gemellini della prima decade. Niente paura, tuttavia, la vostra verve, il vostro spirito sempre leggero e vivace vi permettono di superare ogni contrarietà e anche qualche intimo turbamento dovuto all'alzarsi e abbassarsi del tono e dell'umore. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 6, finanze, 8, benessere, 8. Cancro. Cari cancro, la condizione fisica non è al massimo. Siete molto stanchi e provati forse perché avete troppa carne al fuoco e non state riuscendo a gestire ogni cosa con la dovuta calma. In amore non è questo il momento di prendere decisioni importanti, anche perché solo a dicembre tutto vi sarà più chiaro. Giove, signore della gioia di vivere, si trova nel segno amico fraterno del toro. La vostra governatrice ideale, invece la luna, occupa il segno a voi congeniale dei gemelli e vi propone una giornata di armonia nel gruppo familiari di appartenenza, specie se siete nati dal 7 al 16 luglio. Anche nella cerchia amicale la personalità ha modo di esprimersi in modo aperto, sereno, con discreta scioltezza comunicativa. Non date retta a venere imbronciata in quadratura e nemmeno alla luna abbioccata in dodicesima casa, l'unico a consolarvi, accarezzandovi con una musica dolce o una poesia d'autore l'immaginifico e acquatico Nettuno intrigono al vostro segno, pronto a fare appugni con la razionalità e la logica che hanno sempre l'effetto di deludervi, soprattutto a scuola in corso a esami universitari piuttosto complicati. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 5, finanze, 6, benessere, 5. Leone. Cari leone, spesso tendete a voler essere protagonisti mettendovi contro tutto e tutti. In questo modo non fate altro che crearvi nuovi nemici oppure correte il rischio di apparire arroganti e presuntuosi. L'eccesso di sicurezza, molto spesso, porta a fare delle scelte davvero azzardate. Saturno, Sole e Urano, i tre corpi celesti deputati all'azione e alla forza di decisione, non vi assistono in questa giornata, specie se appartenete alla Leonina II decade. Risolvete con grande brillantezza alcune situazioni grazie alla lucidità e risolutezza che sapete in ogni caso dimostrare. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 7, benessere, 10. Vergine. Cari Vergine, la giornata di oggi, 29 novembre, vi vedrà molto stanchi ed impegnati. Molti di voi arriveranno a fine serata davvero esausti a causa dei troppi impegni. Forse dovreste imparare a saper dire di no anche per non obberarvi di impegni. Dicembre segnerà una fase di recupero in amore grazie al supporto di Venere. Aumentano oggi le intuizioni in voi, forse anche i sogni premonitori, ma il vostro segno, di solito, è poco disposto a servirsene, preferendo l'analisi razionale, in un quadro che rispetti sempre una sorta di ordine convenzionale, scientifico, accettato da tutti. L'argente a luna bussa alla vostra porta formando un aspetto stimolante e tecnicamente negativo dal segno dei gemelli. Voi le rispondete con la timidezza e le incertezze che di solito vi caratterizzano. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, Attività, 5, Finanze, 10, Beneessere, 5. Bilancia. Cari bilancia, nel corso delle prossime ore non è il caso di prendere decisioni drastiche soprattutto per quanto riguarda l'amore. A breve potrete contare sul fondamentale supporto di Venere che potrebbe sistemare le cose e annullare molte tensioni che sono in corso con il vostro partner. Saturno vi porterà a programmare qualcosa di importante. Prosegue la fortificante adeguata azione di Marte nel Sagittario, utile per il vostro segno a inserire vitalità e vigore, in un segno a volte pacato e riflessivo come il vostro. La sollecitazione alla bilancia del pianeta vi aiuta a non lasciarvi soggiogare, vi apre a una fase senz'altro di grinta, che mettete in campo in ogni settore della vostra vita. Ne sentite maggiormente l'influenza se siete nati dal giorno 25 al 30 del mese di settembre. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, Attività, 8, Finanze, 8, Beneessere, 6. Scorpione. Cari Scorpione, con queste stelle sarà possibile sperare di poter trovare l'amore. Questo vale soprattutto per quelle persone che si sono separate da poco e adesso sono in cerca dell'anima gemella. Già a dicembre, e per tutto il 2024, l'amore tornerà a sorridere anche per quelle coppie che in estate si sono allontanate. Saturno, Nettuno e Plutone nel segno dei pesci e del Capricorno, profondamente alleati dello Scorpione nello schema dello Zodiaco vi donano una razionalità logica di tutto rispetto e la capacità di comprendere fulmineamente gli stati d'animo altrui. E il profilo dei transiti odierno è ancora più gioioso e fortunato del giorno precedente. Questo in special modo se siete nati nel mese di novembre. Mercoledino, con venere imbronciata in dodicesima casa e la luna che non sa nulla e soprattutto non ha nulla da raccontarvi. Unico amico Nettuno fantasioso, che vi fa sognare l'amore, specie se l'amore non c'è. Sognando con le mani in mano non si realizzano progetti e tanto meno si guadagnano bigliettoni, il vostro salvadanaio, dice la luna, sta già reclamando la merenda. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 6, benessere, 6. Sagittario. Cari Sagittario, il vostro modo di fare e la vostra attitudine ad essere dei veri vincenti potrebbe irritare e suscitare l'invidia da parte di qualcuno. Cercate di fare buon viso a cattivo gioco evitando di cadere in alcune trappole che potreste incontrare sul vostro cammino. Cercate di non farvi prendere dall'orgoglio o dall'eccessiva voglia di strafare per dimostrarvi superiori. Calma. La luna è sempre in contrasto col Sagittario, occupando il segno nemico, amatissimo dei gemelli e può non farvi sentire in sintonia con qualche persona, forse di sesso femminile, che fa parte del vostro entourage familiare, specie se appartenete alla seconda decade. Attenzione a essere sempre gentili e beneducati, specie se siete ragazzi o ragazze e specie con i componenti più maturi del vostro clan parentale. Per fortuna prosegue la positività del team Mercurio, Sole, Marte nel vostro segno, che vi apre a una giornata di gioia di vivere, di divertimento, magari in qualche vostro tipico sport, da mettere in azione con i parenti più stretti o i fidati amici di sempre. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 5, finanze, 7, benessere, 5. Capricorno. Cari Capricorno, qualcuno potrebbe cercare di interpretare male le vostre intenzioni finendo così per entrare in collisione con i vostri piani. In questa fase siete molto collerici e non riuscite a tollerare alcune persone. Cercate di restare calmi. I rapporti con bilancia e toro saranno molto tesi e astiosi. Nettuno, Giove, Saturno e Plutone, si dispongono tutti in angolo benefico. E il nuovo giorno di novembre è molto generoso con molti di voi capricorni. La luna in gemelli soltanto è neutra, non negativa. Il consiglio degli astri, specie se siete nati nella seconda decade, è comunque quello di non prendere decisioni troppo affrettate o di non commettere azioni impulsive in ogni campo. La luna in sesta casa vi vuole precisi e puntigliosi al lavoro, niente distrazioni perciò, anche se il sestile di Nettuno vorrebbe portarvi lontano con la fantasia sul tappeto volante del sogno, dove si dirigono gli artisti in cerca di ispirazione. Il guaio è che se anche vi occupate di ben altro, commercio, amministrazione, logistica, la vostra mente oggi si perde nel labirinto dei ricordi, stralci di letture, il paesaggio di un'opera d'arte che vi ha colpiti, insomma, non riuscite a stare sul pezzo. Colpa di venere alta del cielo in quadratura, è lei che fingendo di accarezzarvi con le dita rosate vi fa sorgere in mente desideri d'amore che vi distolgono dai vostri impegni, avvolgendo orologio e agenda nella nebbia. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 7, finanze, 6, benessere, 7. Acquario. Cari Acquario, se è vero che l'inizio di novembre è stato piuttosto complicato per voi, l'ultima parte del mese in corso e dicembre saranno sicuramente molto più rassicuranti sotto tanti punti di vista. Quello di dicembre sarà infatti il mese giusto per progettare qualcosa di importante. A spalleggiarvi, su tutta la linea, ci sono la Luna, Mercurio, Venere, Marte, ospitati nei fidati gemelli, Sagittario e Bilancia, specie se siete nati nella terza decade con Giove e Nettuno con Plutone nel buon vicino Capricorno e nei pesci. Vi godete questa giornata con la vostra tipica vivacità e quel tocco di stravaganza che da sempre vi caratterizza. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 6, benessere, 9. Pesci. Cari pesci, in questo momento dell'anno può capitare di discutere parecchio con qualcuno che non condivide le vostre idee. Non è vero che per tutti i problemi c'è una soluzione. Alcune volte non c'è nulla da fare. Saturno, Giove e Venere sono in aspetto positivo e premieranno le vostre scelte anche quando possono apparire del tutto azzardate. La Luna è sì in angolo contrario dal segno nemico, amatissimo dei gemelli, a provocarvi lievi intoppi, ma Orano e Giove sono nel segno del toro, a esaltare i vostri entusiasmi e innalzare la parte generosa, affettiva che è in voi. Alti e bassi nel tono e nell'umore possono condizionare questa giornata, che appare in ogni caso molto positiva. Nettuno nel vostro segno oggi bisticcia con la Luna razionale in gemelli. Se siete in cerca di ispirazioni faticherete a trovarli, la mente affoga nel mare dei ricordi, soprattutto quelli d'amore che con Venere imbronciata oggi sentite lontani, fuori portata, addirittura negati. Momenti di intensa malinconia, ma in fondo ci state felicemente a mollo, piangersi addosso ogni tanto lava via tensioni e frustrazioni, in più potete contare su una famiglia affettuosa che vi vuole un gran bene. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 5, finanze, 9, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.